Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno eseguendo un'ordinanza cautelare messa dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia aperta europea nei confronti di 41 persone, 35 custodia cautelare in carcere e 6 individui di dimora nella regione Campania gravamente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dal nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna e coordinate dalla DDA di Napoli hanno consentito di documentare l'operatività di un'associazione facente capo al clan Rega Piacente detti dal traffico di sostanze stupefacenti e operanti del rione popolare della 219 di Brusciano. Ricostruita l'organizzazione delle piazze di spaccio distribuite in varie scale del rione ognuna con una struttura gerarchica pinamidale composta da capopiazza, spacciatori e vedette per ciascun tipo di stupefacente venduto marijuana, hashish, crack e cocaina. Attività fiorente seconda solo all'area di Caivano. Elevato il livello organizzativo delle piazze attive anche 24 ore al giorno con pusher che venivano impiegati su turni di lavoro di 8-10 ore al giorno. Rigidissimo il sistema di cambio turno durante le indagini i carabinieri hanno rilevato che presentarsi in ritardo al cambio turno poteva comportare anche il licenziamento circostanza documentata per uno dei pusher allontanato per un ritardo di 30 minuti. Ogni shop era dotato di un preciso quantitativo di droga fornito dal capopiazza di volta in volta al pusher ad ogni inizio turno insieme ad una ricettrasmittente uno strumento fondamentale per essere immediatamente informati in caso di eventuali controlli delle forze dell'ordine. Come per altre realtà criminali i sodali lanciavano l'allarme gridando Marco Marco permettendo una rapida fuga all'arrivo dei militari. Le indagini hanno dimostrato come l'attività di spaccio fosse pressante al punto da modificare le abitudini dei residenti estranei al clan. Nessuno dei condomini delle palazzine della 219 poteva disporre delle chiavi dei portoni d'ingresso. Anche i citofoni erano stati rimossi per evitare l'apertura da remoto dei portoni senza autorizzazione. La ventità di droga avveniva anche in presenza di bambini con devastanti effetti sulla formazione culturale e delle coscienze. L'indagine tra le altre cose ha consentito di effettuare numerosi sequestri di sostanze superfacente di ingenti somme di denaro provento dell'attività illecita nonché l'arresto in fragranza di reato di a circa 30 persone.